ciao a tutti e bentornati finalmente su mangia pagine io sono veronica e oggi sono qua per scusarmi della assenza iper mega prolungata però ci sono stati dei problemi tecnici ovvero il pc era morto e quindi non siamo riusciti più a fare dei video però adesso sono tornata e non vedo l'ora di riempirvi di video perché ho letto tantissimo in questo periodo e avevo voglia di condividere con voi le mie letture oggi vi parlo di un libro che mi ha cambiato moltissimo la vita o comunque la visione del mondo sto parlando di the hate you give il coraggio della verità di angie thomas allora questo libro sicuramente lo starete già vedendo da tantissimo tempo sugli scaffali delle varie librerie per altre informazioni più dettagliate vi metto una scheda libro qui di fianco insomma con numero di pagine prezzo casa editrice e qualsiasi altra cosa che vi possa interessare ed essere utile allora perché mi ha cambiato la vita questo libro perché è un libro che parla di un argomento di cui io non avevo mai letto in nessun altro libro ovvero black lives matter cioè per chi non sapesse bene che cosa sia brevemente diciamo che in america c'è questa tendenza da un po di tempo a questa parte da parte dei poliziotti bianchi di fermare non si sa bene per quale motivo persone di colore e talvolta ucciderle o comunque dopo aver intimato di fermarsi eccetera comunque sparano e queste persone di colore muoiono allora io non sono qua ad aprire dei dibattiti a livello morale o di chiss'altro tipo non sono qua a dire del perché di che succedono queste cose non mi interessa in questo senso mi interessa solo farvi capire che questo libro parla di queste problematiche ed è una problematica che noi probabilmente non sentiamo molto vicina perché fortunatamente per quanto il mondo faccia schifo noi viviamo ancora in un posto in cui non succedono così tanto queste cose allora diciamo che questo è un libro che è pensato per ragazzi ma secondo me deve essere letto da chiunque perché una problematica un tema del genere è fondamentale che lo conoscano tutti ed è raccontato dal punto di vista di una ragazza che si chiama star star ha visto da piccola perdere la sua migliore amica per un colpo di pistola e non si capiva bene chi l'abbia sparato eccetera però insomma è morta la sua migliore amica a quando aveva mi sembra sui 12 13 anni e poi adesso che è sui 16 17 anni da adolescente torna da una festa in cui c'è stata una sparatoria la restare accompagnando a casa un suo amico che non vedeva da tempo a un certo punto un poliziotto bianco gli intima di fermarsi quelli si fermano scendono l'amico fa il giro della macchina nonostante il poliziotto gli avesse detto di stare a fermo dove dove fosse fa il giro e chiede alla sua amica chiede a star appunto se tutto va bene di non preoccuparsi il poliziotto pensa che stia tirando fuori un'arma o qualcos'altro gli spara e muore e star diventa la testimone di questo fatto e quindi nel suo animo ci sono delle emozioni un po' controverse perché vorrebbe parlare però nello stesso tempo non vuole fare la parte quasi della vittima insomma man mano che si va avanti col libro si riesce a capire il ruolo fondamentale che a star in questa in questa vicenda e poi si capirà anche il ruolo del suo amico che comunque era visto come una persona non molto insomma ben vista all'interno della società si pensa che facesse si pensava facesse parte di una gang di spacciatori eccetera ma poi verrà svelato tutto insomma una sorta di mistero o di incomprensione riguardo questo ragazzo allora io ho trovato questo il tema molto forte ma la scrittrice secondo me ha avuto come dire è riuscita benissimo a raccontare con toni un po più smorzati questa cosa però raccontarla fino in fondo il titolo di allora nella versione mi sembra inglese o americana sulla costa abbiamo solo l'acronimo cioè la t la h la u e la g fa parte di una frase che non mi ricordo bene se l'aveva detto un rapper se sia realmente vera una frase del genere comunque fag fag life cioè the h you give little infants fax everybody ed è una frase secondo me molto reale molto verichiera significa che l'odio che noi rigettiamo sui ragazzi sui bambini ci fotterà tutti prima o poi quindi è un monito secondo me sia per i genitori ma proprio per la società stessa è un monito per dire ragazzi dobbiamo cercare di tirare su le persone o di essere da insegnamento alle nuove generazioni perché le nuove generazioni se vedono solo odio da noi o comunque all'interno del mondo è ovvio che proveranno solo odio e lo riverseranno sulla sulla società quindi è fondamentale cercare di dare ai giovani alle nuove generazioni un posto migliore quindi io questo ho capito da questo libro sono stata molto contenta di averlo letto perché mi si è aperto insomma uno spiraglio su una su un qualcosa che come dicevo prima per fortuna noi non abbiamo così preponderante all'interno della nostra società ho capito un mondo che mi sembrava così tanto diverso ma forse così diverso non è dal nostro e ripeto io vi consiglio caldamente questo questo libro lo stile l'ho trovato ecco ho sentito dire altre recensioni in giro che di persone che comunque dicevano che l'inizio è molto lento io sarà che è stato il momento giusto in cui l'ho letto io l'ho trovato scorrevolissimo per quanto comunque ripeto il tema non sia un tema così leggero ecco 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 io credo fermamente che questo sia uno delle scoperte positive dell'ultimo anno per quanto riguarda le mie letture quindi vi ripeto di it you give di angie thomas se qualcuno l'ha letto si senta liberissimo anzi non vedo l'ora che lo scrivate sotto in un commento per parlarne perché mi piacerebbe parlarne anche con voi se qualcuno l'ha letto o comunque se qualcuno non l'ha ancora letto se ha dei dubbi proponetemeli tutti nei commenti perché io sono molto contenta di rispondervi e vi ringrazio ancora di aver guardato questo video di aver atteso con ansia il ritorno il nostro ritorno su youtube sempre nell'info box trovate il link per iscrivervi al gruppo di telegram in cui ci sono tantissime belle persone con cui si parla insomma di libri di letture di serie tv di tutto quello che volete ecco e vi ringrazio ancora e vi do appuntamento ai prossimi video ciao